Buon salve amici di Readball, siamo al sesto episodio di questa settimana su Readball, il nostro recap settimanale che avviene tutte le domeniche in cui vi spiego che cosa è successo questa settimana su Readball Tecnologia, Videogioco e Fotografia che sono i nostri tre canali YouTube principali all'interno di questi canali sono venute varie cose, sono usciti vari video, cominciamo subito da Readball Tecnologia dove sono stati alcuni video un po' particolari la recensione di uno smartphone molto interessante, l'Honor 6X, 250€ per un telefono che mi è piaciuto molto e che mi ha sorpreso per le sue capacità poi è riuscito un video sul LG G6, uno smartphone che è stato trafugato nelle prime immagini e che forse potrebbe essere quello che abbiamo appunto visto in questo video chissà se sarà così, io spero di sì e soprattutto la recensione dell'Honor 6X ha scatenato una serie di ragionamenti sul fatto che magari non vale più la pena comprare un dispositivo top di gamma e quindi ho realizzato un video proprio a questo tema, se vale la pena o no comprare un telefono da 800-900€ ho avuto un grande successo, un botto di commenti quindi se volete vederlo come sempre basta collegarvi al canale e spulciare tutti i video oppure ve lo lascio qui nella scheda in alta destra del player di YouTube questa settimana su Readball Videogiochi invece ci sono state un po' di cose interessanti ovviamente non si è fatto altro che parlare di Nintendo Switch, Nintendo Switch è console molto molto attesa proprio in arrivo a marzo il nostro Matteo ha realizzato un video in cui vi racconta un po' le opinioni su questa nuova console di Nintendo che peraltro vi anticipo, vi spoilero che stiamo per provare in anteprima rispetto al lancio in modo tale da potervi portare delle opinioni dirette su questa console di Nintendo che fra qualche ora avremo finalmente fra le mani è stato poi il momento anche di parlare di Xbox Scorpio, progetto che sarà la nuova console di Microsoft dedicata al 4K una console di cui in realtà ancora non si sa molto e soprattutto il buon parra è andato a Milano per un evento di MSI che ci ha fatto vedere più da vicino la gamma Notebook da gaming per il 2017 quindi se vi interessa anche l'argomento Notebook collegatevi al canale di Readball Videogiochi perché lì troverete un approfondimento sulla nuova gamma di MSI per quanto invece riguarda Readball Fotografia, questa settimana è stata interessata da una recensione molto attesa Panasonic Lumix LX15 un prodotto mirrorless molto interessante, molto venduto e molto richiesto specialmente per chi fa attività su YouTube tipo vlogging o comunque video, è un prodotto economico ma allo stesso tempo piuttosto capace, ci è piaciuta e quindi andatevi a vedere la recensione di Riki, trovate come sempre sul canale di Readball Fotografia al quale se non siete iscritti ovviamente recuperate subito perché è un canale estremamente interessante vorrei poi anche un vostro feedback magari sul nuovo microfono che sto utilizzando per registrare l'audio di questo video non vi dico qual è finché non mi scriverete nei commenti l'apposita domanda quindi se vi sembra buono l'audio di questo video ditemelo se invece così non fosse torno al microfono precedente però io mi sto trovando molto bene insomma questo era il nostro recap settimale come sempre non dimenticate di iscrivervi ai nostri tre canali continuate a seguirci su Readball perché sono in arrivo come sempre delle grandi novità un saluto al prossimo video per Readball.com Andrea Ricci